E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, benvenuti sul canale e buona settimana a tutti. Continuiamo a parlare anche di un altro giallo, di un altro caso irrisolto, che è quello di Pierina Paganelli. Nelle ultime settimane emerge sempre di più la componente, diciamo, pseudo-religiosa sottesa a questo caso, che in tutti i modi sicuramente ha condizionato, ha inciso, forse magari in un modo maggiore di quello che si pensa. Ed allora torniamo anche a quella casa sotto sequestro, la casa di Pierina. Deve avere un significato, lo deve avere. Il significato che può avere è soltanto pensare che gli inquirenti abbiano trovato qualcosa. Se questo qualcosa fosse qualcosa di relativo ai soliti noti, sarebbe venuto fuori. Forse hanno trovato qualche traccia, qualcosa che conduce a qualche altra persona. E quindi è questo inghippo, diciamo, che probabilmente si deve risolvere. Ma, dato che la componente religiosa sembra avere, diciamo, un'impostanza forse maggiore di quello che noi fino ad oggi abbiamo considerato, c'è da chiedersi anche qual era il ruolo che Pierina rivestiva all'interno di questa associazione, di questa confraternita, come vogliamo chiamarla. Quindi, qual era il suo peso specifico all'interno del testimonio di Giova? Certamente un peso specifico abbastanza importante, visto che lei era, insomma, anziana, era da una vita che stava all'interno. Quindi aveva una voce in capitolo importante, come pure il figlio Giuliano aveva una voce in capitolo importante, aveva un ruolo importante a cui ha dovuto poi rinunciare a seguito di tutte queste polemiche del tradimento di Manuela. E lui ha dovuto rinunciare a un ruolo importante e credo che questo aspetto anche abbia inciso sull'alterazione dei rapporti. Quindi, vedete, è in questo ambito che noi dobbiamo approfondire il discorso, un discorso che ha portato la stessa Manuela a dire, una volta, a scrivere, io vorrei sputare veleno contro la famiglia di mio marito. Ecco, mentre al di fuori di questo equilibrio pseudo-religioso si collocano soltanto Valeria e Luis, per il momento. Ma bisogna chiedersi anche perché Manuela e Luis, almeno negli ultimi tempi, vivessero ai margini di questo mondo. Vivevano ai margini di quel mondo da cui non avevano voluto allontanarsi, ma quasi costretti ad allontanarsi. Quindi, la loro poteva essere anche una paura e nello stesso tempo una rabbia per aver subito magari delle scelte o delle conseguenze. E la conseguenza e la paura che poteva avere Manuela, secondo me, era anche quella di, teoricamente, poter perdere anche il rapporto con la figlia. Noi, vedete, anche questa cosa qui dobbiamo, questo aspetto qui dobbiamo un po' approfondire, perché la figlia comunque è nei testimoni di Geova, seguiva sempre la nonna, seppur minorenne, comunque era inquadrata in questa cosa qui. Quindi, un allontanamento di Manuela avrebbe potuto compostare, secondo queste regole, così, insomma, fuori posto, insomma, di questa, che molti chiamano una setta, insomma, poteva mettere in crisi anche i rapporti, non solo con Giuliano, ma con la stessa figlia. Quindi, immaginate che tutte queste polemiche cosa avrebbero potuto compostare per Manuela? Quindi, una Manuela che, se fosse stata disassociata di lì a poco, avrebbe perso sia i rapporti con il marito, magari temeva pure con la figlia, temeva conseguenze di tutti i tipi, insomma, anche economiche, o soprattutto economiche. Ecco perché negli ultimi tempi non si poteva parlare di amore su quel pianerotto, lo penso che ci fosse, molto odio che la stessa Manuela manifestava anche attraverso dei post su Facebook con delle frasi molto significative che poi dopo vennero cancellate. Manuela temeva di perdere soldi, di perdere il matrimonio, di perdere la figlia, di perdere anche l'amante, l'amante perché no, di perdere l'amica, l'amica Valeria, di perdere la faccia, di perdere la faccia. E in questo discorso veniva coinvolto anche il fratello Loris, accusato avrestamente di essere il protettore, e protettore nel senso più brutto del termine, perché Pierina accusava avrestamente Manuela di essere una tipa, diciamo, leggera, diciamo così per non dire parolacce, e Loris di essere il suo protettore. Quindi immaginate, immaginate soltanto, insomma, cosa dovesse essere, insomma. E quindi era una situazione non troppo bella per Manuela, ecco, perché una volta disassociata lei veniva un po' messa all'angolo, perché una volta che uno ha vissuto tanti anni in questi testimoni di Geova, e poi dopo vieni quasi distrutto se ne esci e magari porti anche rabbia e zancore nei loro confronti. Assolutamente. Manuela, credo che in quel periodo si sia trovato con l'acqua fino al collo, come si dice. Era arrivata in quel periodo, quando è successa la tragedia, era arrivata a detestare Pierina, e a detestare anche quell'ambiente nel quale lei non andava più da un po' di tempo, e anche il fratello Loris non andava più. Allora, quello che mi sono sempre chiesto, se essi non andavano più, se vogliamo pensare che si fossero allontanati in una maniera pacifica, in una maniera spontanea, si fossero allontanati da questi testimoni di Geova. Ecco, che vedo anche stamattina venendo qui, ho visto nella loro postazione al mercato rionale una cosa incredibile, ma dicevamo per quale motivo allora quella sera avrebbero voluto vedere, perché quella sera pur non frequentando più una serata a cena dove si poteva parlare di tutto e di più, invece la passano vedendo in streaming la riunione dei testimoni di Geova. Allora era una vera e propria dipendenza, dobbiamo parlare di una vera e propria dipendenza, ma da cosa? Da un'associazione, da una sorta di setta che li stava mandando fuori, li stava allontanando, è possibile credere in una cosa del genere? Allora ecco perché ci sono poi i dubbi che possa essere successo qualcosa. I dubbi che hanno portato a collegare quella famosa frase di Loris, giustizia divina è stata fatta, come uno sfogo per dire che io abbia o non abbia delle colpe dirette su quello barbaro assassino, era quasi una forma di sollievo dire giustizia divina è stata fatta, non era un feedback come ci dice. Ed allora, dopo che era successo questo, interviene la polizia, sequestra la scena del crimine, fa tutti i rilievi possibili, dopo 48 ore è tutto dissequestrato. Tranne la casa di Pierina, dove lei quella sera, almeno lei, non era arrivata. Quindi quella casa è l'anello mancante di una catena. E allora, c'è da pensare che lì abbiano trovato qualcosa. Forse qualcosa che non si riconduce ai solidi tre o quattro del pianerottolo. Questo c'è da pensare. E di Loris cosa possiamo dire? Luis, noi non sappiamo ovviamente, possiamo soltanto ipotizzare che i dubbi su Luis nascono soltanto dal fatto di questa relazione, per cui in questa relazione, in quest'ottica, qualcuno può pensare che sia stato quasi plagiato da Manuela, per cui abbia potuto aiutare, aiutare, partecipare a questo terribile episodio. Però, quale ruolo, quale ruolo, semmai un ruolo lo abbia avuto? E se avesse avuto un ruolo, allora Valeria, la moglie, davvero dà questo alibi a Luis perché è un alibi autentico o dà questo alibi a Luis a salvaguardia di una certa posizione? E per quale motivo lo avrebbe mai fatto Valeria? E' difficile immaginare una Valeria che dà un alibi falso, devo dire la verità. Difficile immaginarlo, perché voi pensate, voi pensate soltanto per un attimo, no? che se Valeria sapesse, si fosse accorta o comunque non avesse quell'alibi così come ha detto e quindi pensasse davvero che Luis sia andato giù a partecipare a un'uccisione e poi una volta aver scoperto questo tradimento, ma che non parliamo di tradimento perché parliamo di una vera storia che durava da tanto tempo e allora quale interesse avrebbe mai avuto lei a coprire accanitamente a tutti i costi questo marito? avrebbe potuto dire a questo punto io dico tutto e quindi voi, voi due o tre magari venite incriminati, venite condannati a trent'anni o all'escastolo e quindi sarebbe stato un modo, come dire, per vendicarsi, ecco per vendicarsi di un marito traditore di cui certamente non ci si può più fidare perché qua non parliamo di una scappatella così, chissà cosa è capitato quella sera, no? parliamo di una vera e propria storia articolata per cui lei non si buona, certamente non si fida e non si fiderà mai più di questo marito quindi se lei avesse avuto questa convinzione che il marito è colpevole avrebbe detto adesso andate voi, voi a pagare le conseguenze di quelle che avete fatto e lei se ne starebbe fuori da questo circuito se invece dà, come dà, insomma, come conferma questo alibi che cosa dobbiamo pensare? che lo fa per amore di lui? certamente no perché oggi io sono convinto che Valeria non può amare come magari ha amato Luis i primi tempi che l'ha conosciuto assolutamente no perché vedete, la fiducia è così quando la si perde, la fiducia verso una persona la si perde la si perde in una maniera definitiva specie quando viene fuori che la persona che tu vai a fianco non è che è capitato in un momento, in una serata particolare dove magari stava ubriaco e chissà cosa ha combinato senza rendersene conto, no qua parliamo di mesi, mesi e mesi di sotterfuggi, di relazioni segrete e volute da entrambi quindi non può certamente più fidarsi e quindi questo è il dubbio sull'usualo di Luis ma io sono anche convinto a questo punto delle indagini visto che non ci sono stati gli avvisi di garanzia sono convinto che questi esami di peribili si sta aspettando per identificare eventualmente una quarta persona una quarta persona qualcun altro che non è stato attenzionato fino a questo momento e che potrebbe potrebbe far parte del circuito diretto o indiretto legato ai testimoni di Geova perché sono gli unici che frequentavano Pierina Pierina non era una donna che aveva una vita mondana che frequentava altri tipi di ambienti no assolutamente aveva una sua moralità legata a questo mondo così chiuso e quindi è probabile che in quella casa sia stato trovato qualcosa sia stato trovato un DNA un DNA che non doveva esserci e secondo me quello stanno aspettando gli inquirenti di poter individuare perché se loro avessero fatto o facessero questi esami di peribili mandando gli avvisi di garanzia solo ai quattro del pianerottolo poi questo sarebbe appunto un esame irripetibile quindi se solo successivamente venisse individuata un'altra persona certamente non avrebbe quelle garanzie che potrebbe avere adesso facendo un esame però fino ad oggi almeno per quello che sembra può darsi che gli inquirenti ne sappiano di più non è stata individuata quella persona ma io quando dico quella persona però non intendo diciamo l'uomo di passaggio non intendo il passante occasionale ma qualcuno legato a quell'ambiente vedete questo fatto salvo alla pace di qualcuno perché ci sono tante brave persone pure per carità ma è un ambiente pericoloso quello dei testimoni di Geova le testimoni sono centinaia di persone che sono uscite passando delle esperienze inenazabili e quindi c'è anche tanto odio tanto rancore tanto isolamento tanto astio in questa situazione ripeto non facciamo tutto il buon fascio io conosco pure persone testimoni di Geova brave persone però all'interno di questa specie di setta c'è il marcio c'è il marcio un marcio che può asivare anche teoricamente ha delle estreme conseguenze quindi forse è questo DNA che deve essere collocato o si cerca di collocare qualche altra partecipazione quindi noi non sappiamo non sappiamo cosa cosa è successo però sappiamo un po' dalle notizie che ci sono delle immagini ecco ci sono delle immagini che in cui si vede un'ombra che esce che va verso i castonetti poi un'ombra che entra sembra un uomo di colore non è confermato nemmeno questo ma è qualcuno che entra che esce che entra per cui due sono le ipotesi o ciò è frutto di una macchinazione per cui si fa questo per voler far finta che questa persona è nell'ambito del condominio oppure che la persona rientra per avere il tempo poi di ripulirsi magari di ripulirsi usufruendo anche della casa di Pierina e poi magari andare via chissà perché noi non dobbiamo dimenticare che questo è un delitto progettato alimentato dall'odio e progettato nei minimi particolari e soprattutto che gli assassini o l'assassino ha avuto tutto alla notte per pensare per pulire per pulirsi per organizzare per rimediare a qualsiasi tipo di esore fatto perché dalle 22.15 di quella sera fino a dopo le 8 del mattino successivo il responsabile o i responsabili hanno avuto tutto il tempo a disposizione però diciamo il diavolo fa le pentole ma non fa anche i coperchi per cui per quanto possa essere stato organizzato c'è sempre un punto debole quindi se fosse emerso come io penso un DNA sconosciuto alla cerchia dei quattro è quello che si sta vedendo è quello anche attraverso le indagini telematiche le perizie sui cellulari per vedere i movimenti per vedere le telefonate per vedere gli agganci al wifi ci deve essere una falla in questa programmazione diciamo così quindi ricapitolando ricapitolando il ragionamento e concludendo se Valeria fosse sicura che il marito Luis fosse colpevole io sono sicuro che non avrebbe esitazione nell'accusarlo e mandare diciamo all'esgastolo lui Emanuele e anche Loris avendo una doppia soddisfazione se vogliamo dirla tutto se invece lei è sicura del fatto suo cioè che Luis non sia colpevole allora oggi il suo odio si concentra solo ed esclusivamente su Manuela che potrebbe vedere in carcere anche come vendetta personale quindi è questa la sua lotta però è una lotta anche a salvaguardia non di un marito colpevole ma di un marito innocente che potrebbe essere messo diciamo nel calderone dei sospettati e quindi è questa anche la difficoltà che trovano gli inquirenti c'è questo terzo uomo c'è davvero questa figura che è un uomo di colore oppure non è sicuro nemmeno questo comunque sia se ci fosse come penso una traccia un qualcosa in quella in quella casa qualcosa di anomalo bisognerebbe cercare nell'ambito dei testimoni di Geova così come aveva detto l'ex marito di Pierina guardate non è una semplice suggestione perché Pierina era molto abitudinaria casa sua era frequentata da quelle poche amiche e da nessun altro quindi nel momento in cui si trovano delle tracce equivoche magari anche matiche di persone strane alla sua cerchia allora bisogna capire bene e non viene collaborazione da questi testimoni di Geova vedete perciò dico hanno lo spirito di una setta perché non si è mai sentito una parola di chiarimento di collaborazione vivono avvolti su se stessi quindi ci saranno sicuramente tante brave persone all'interno ma hanno dei comportamenti spesso assurdi molto trincerati in questa loro ottica di onnipotenza insomma e quindi spesso secondo le testimonianze sono persone anche che odiano che discriminano che allontanano che isolano che perseguitano in un certo senso chi non la pensa come loro Emanuele in questo senso qui può essere anche vittima vittima di questa persecuzione tra virgolette tra virgolette cioè parliamoci chiaro una donna che per carità moralmente nessuno si fa censura degli altri insomma una donna che comunque ha una storia giusto svegliato che sia che venga additata venga espulsa venga isolata venga condannata venga venga turlupinata in questo modo nemmeno è corretto a mio modo di vedere ecco quindi è in questo calderone che è maturato questo terribile omicidio fatto di odio di rancore qual è il ruolo esattamente preciso di Pierina Pierina era una che nel testione di Geova contava tanto in quella congregazione lì contava tanto perché c'era da tanti anni c'era qualcun altro che poteva avere un odio verso di lei qualcun altro coinvolto in questa triste storia non sarebbe la prima volta all'estero si è parlato tante volte di arresti anche di questi esponenti testimoni di Geova coinvolti anche in fatti criminosi per carità nessuno vuole dire questo in questo caso qui però vedete in passato io avevo sempre sottovalutato l'incidenza della componente religiosa qua è enorme è enorme almeno a livello morale è enorme perché da lì nasce tutto l'odio da lì nasce tutto il zancore il zancore è l'odio di Manuel nasce dall'ambiente religioso non nasce per il fatto di potersi dividere da un marito che oggi sembra quasi la cosa più normale del mondo la separazione il divorzio non è quella l'odio nasce dalle conseguenze di un isolamento di un accanimento contro una persona che fa delle scelte perché questi testimoni di Geova entrano a piedi uniti nella vita privata dei loro adepti e li costringono a una vita impossibile per coloro che si sottraggono a queste regole di stampo medioevale insomma quindi in questo ambito che matura matura tutto l'odio del mondo è qui che si deve vedere se c'è altro e spero che gli inquirenti stiano mettendo a posto gli ultimi tasselli proprio per darci delle risposte ecco dopo questo ragionamento io vi vi saluto sperando che effettivamente questa sia la settimana in cui avremo dei chiarimenti delle risposte ma non abbassiamo mai l'attenzione su questo caso che sta diventando molto 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 intrigante e la soluzione è sempre dietro l'angolo ma non si allontana certamente da quel condominio grazie grazie condividete il video con tutti i vostri amici con tutte le vostre amiche e un abbraccio a tutti quanti voi a tutti i vostri amici